buongiorno da btv news oggi 14 dicembre san giovanni della croce e della giornata mondiale della scimmia si tratta di una giornata dedicata all'affascinante e variegato mondo dei primati questo evento che si celebra 14 dicembre di ogni anno mira a sensibilizzare il pubblico sull'importanza della conservazione delle scimmie e apprezzarne la bellezza e la diversità durante questa giornata le persone in tutto il mondo si riuniscono per celebrare i primati e apprendere di più su di loro le scimmie sono esseri viventi incredibili ma molte specie sono minacciate a causa della distruzione del loro habitat della caccia e del commercio illegale celebrare la giornata mondiale della scimmia ci permette di comprendere meglio i pericoli che affrontano queste creature e di promuovere la loro protezione